Continuano ad arrivare segnalazioni alla nostra emittente ma anche direttamente alla Capitaniera di Porto per quanto riguarda i fumi delle navi in Porto e mi riferisco in particolare alla nave Virgin in Rada fuori dal nostro Porto, la situazione però è tranquilla e sotto controllo della Capitaniera di Porto, è così? Assolutamente, ne siamo a conoscenza, noi ringraziamo i cittadini Civitavecchia che comunque continuano a segnalarci le situazioni è una cosa tipica di Civitavecchia perché il problema dei fumi in questa città è sempre stato avvertito in maniera importante per quello che riguarda la nave da crociera che è in Rada, la nave è in Rada e in sosta non operativa ma è perfettamente rispondente a quelle che sono le norme internazionali che prevedono l'utilizzo dei carburanti a basso del nome di Zolfo attraverso anche l'utilizzo del sistema dello Scrubber che è il sistema che di fatto opera un lavaggio del combustibile, dell'emissione che viene prodotta portandola all'emissione stessa a un contenuto almeno equivalente a quello delle norme consentite quindi la situazione è molto migliore di quella ma nella peggiore delle ipotesi arriviamo ad avere un contenuto di Zolfo conforme alla norma ne abbiamo parlato a microfoni spenti e più probabilmente una questione visiva piuttosto che poi effettivamente di inquinamento sì è un impatto visivo perché da lontano soprattutto si vede il fumo i miei tecnici mi dicono che man mano che ti avvicini alla nave il fumo è sempre meno visibile ma comunque ripeto si tratta di un fumo che non ha emissioni di Zolfo superiori alle norme previste i nostri uomini soprattutto quelli che si occupano della sicurezza della navigazione operano dei controlli quotidiani su queste navi vanno a bordo, operano dei prelievi anche dei carburanti i carburanti vengono poi analizzati con dei rapporti di prova che vengono poi trasmesse sia all'agenzia dei dogani e anche al comune per quanto riguarda questo primo periodo dell'estate non ci sono stati particolari sforamenti diciamo da questo punto di vista e così è stato anche negli anni passati, è così? per quello che riguarda situazioni complesse in quest'ultimo periodo dal 2020 non risultano violazioni quindi tutte le analisi fatte, tutti i controlli effettuati sono risultati poi irregolari Civitavecchia si è mossa addirittura in anticipo rispetto alla normativa con il famoso Blue Agreement che appunto è stato anche un po' innovativo rispetto anche agli altri porti sì questo mi fa piacere che lei lo segnala la norma prevedeva l'utilizzo dei nuovi carburanti a basso tono di Zolfo dal gennaio del 2020 Civitavecchia già nel 2017 stipulò il Civitavecchia Blue Agreement con le società che gestiscono tutti i draghetti in modo tale da ridurre in anticipo, quindi consentire in anticipo l'utilizzo di carburanti a basso tono di Zolfo e questo ovviamente è una cosa molto bella che il porto ha conseguito la suddivisione dal porto storico e la parte commerciale sarà un ulteriore passaggio positivo da questo punto di vista? come io lo dico, ero qui a Civitavecchia tanti anni fa, ripeto sono venuto più volte a lavorare a Civitavecchia c'è stato un progressivo spostamento verso nord di tutto quello che è il traffico marittimo anticamente, fino agli anni 90, le navi che partivano per la Sardegna erano normaggiate qui nel porto storico invece adesso sono tutte andate verso nord e questo ovviamente ha dato una grossa mano a riqualificare anche questa zona perché le segnalazioni che c'erano a chi viveva sul porto ovviamente subiva degli effetti negativi di queste situazioni adesso è tutto molto più tranquillo, ci sarà con i nuovi lavori che verranno che sono già ormai appaltati ci sarà una separazione fisica concreta tra il porto, l'area commerciale e l'area turistica del porto in modo tale che la vecchia d'Arsena con l'apertura a sud sarà dedicata esclusivamente alla navigazione da riporto Grazie 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 Grazie